Buongiorno a tutti, benvenuti alla nostra consueta pillola sull'indice di Milano in due minuti. Si è chiusa una bellissima settimana per il nostro listino, praticamente ha chiuso la settimana con un più 5%, qualche frazione in meno. Per la settimana partita benissimo già da lunedì, martedì e mercoledì abbiamo avuto ancora due candele positive, giovedì apertura in gap up, si è andati a sfiorare i 24,250, piccola upper shadow e sostanzialmente venerdì si è mantenuto le posizioni, vedete la Doji che è andato a disegnare, si è perso leggermente il minimo della candela di giovedì, ma non si è andato a chiudere il gap, gap che si sarebbe chiuso a 23,958, mentre nella seduta di venerdì non si è scesi sotto i 24 mila punti. Rimane pertanto aperto questo piccolo gap sull'indice di Milano, questo livello che vedete non è altro che il riferimento del bordo inferiore del gap, del primo, del secondo, dei due gap di inizio pandemia sostanzialmente, questo gap andrebbe, il primo dei due gap si andrebbe a chiudere a 24,669 punti, che è ancora un lungo andare, vedremo se pertanto come sarebbe auspicabile Milano andrà prima a chiudere questo gap lasciato aperto nella giornata di giovedì per poi andare a ripuntare verso la chiusura del gap down della pandemia o se invece salva la tenuta dei 24 mila punti deciderà poi di ripartire. Le prospettive attuali vedono un'Italia che si sta portando sostanzialmente per metà in zona rossa, ma questo potrebbe essere la profilassi per un futuro decisamente migliore. Vedremo pertanto come muoverà il listino di Milano già da lunedì. Vorremmo segnalarvi a tutti che nella nostra newsletter della settimana invieremo l'approfondimento sull'idrogeno, chi volesse ricevere la newsletter basta che scriva una e-mail al nostro indirizzo info-mactrader.it con oggetto iscrivimi e sarete per tanti aggiunti alla nostra newsletter e riceverete nella prossima settimana l'approfondimento sull'idrogeno, approfondimento che avevamo pubblicato a metà novembre e i 4 titoli che avevamo segnalato, due di questi stanno con delle percentuali di guadagno veramente molto interessanti. Con questo è tutto e vi auguriamo una buona domenica!